Se vai a dormire dopo le 3 di notte sei in pericolo, ascoltami bene lui e la Yuwoki. In questi giorni centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo non fanno altro che parlare di questo personaggio inquietante, la Yuwoki. Il video divenne virale dopo che lo youtuber attirò l'attenzione in quanto ebbe alcuni problemi con il suo vicino di casa che decise di chiamare la polizia. E quello che scoprì la polizia fu terrificante. Si dice che questo animatronico, creato anni fa per imitare Michael Jackson, sia scappato e vada a perseguire tutte le persone che vanno a dormire dopo le 3 di notte. Per ora è soltanto in Messico, però potrebbe arrivare in Italia. Dico, ci sono due opzioni, o smettete di andare a letto dopo le 3 di notte, che sarebbe la più facile, oppure bevete sempre latte caldo prima di dormire e subito appena al risveglio. Si pensa che questo confonda il tuo odore per la Yuwoki.